Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Jabra Elite Active 45 sono degli interessanti auricolari sportivi con Amazon Alexa integrata. Partiamo dalla confezione che contiene gli auricolari, un cavo da USB a micro USB per la ricarica e un manualetto di istruzione. Avrei preferito trovare anche dei gommini di ricambio e anche un sacchetto per conservarli. Con qualità costruttiva sono in solida plastica, però non ho notato nessun tipo di problema di cedimento. Sono collegati tra di loro da un cavo rinforzato, che comunque è solido, ed è anche antingarabugliamento. I tasti sono solidi, ma bisogna applicare un po' di forza per accendere e spegnere. Presente anche la certificazione IP67 che garantisce di poter utilizzare sotto l'acqua e anche in presenza di polvere. Per quanto riguarda la comodità, sono comodi, ma bisogna abituarsi, perché inizialmente si fa più fatica a indossarli, perché bisogna inserirli nel modo corretto precisamente, però una volta che ci si abitua, sono davvero molto comodi, non cadono dagli orecchi. Poi comodo è anche il gancetto, che permette di fissare gli orecchi senza rischiare di perderli. Per quanto riguarda la qualità audio è davvero molto buona, il volume è alto e il suono bilanciato. Ci sono anche i bassi che si sentono bene. Purtroppo assente l'isolamento dai rumori ambientali, ma è una scelta del produttore per non mettere in rischio la persona mentre fa sport. Comunque in generale, in ambienti non troppo rumorosi, fierci a sentire, è bene che consiglio di mettere magari il volume un po' più alto quando c'è più rumore, ma comunque sono cuffie per lo sport e non da usare per esempio in aereo o in altri ambienti rumorosi. Abbiamo anche l'app Jabra Sound Plus, che permette di equalizzare l'audio, scegliere l'assistente vocale tra Amazon Alexa e Google Assistant e aggiornare anche il software. Le istituzioni vocali sono soltanto in inglese e in altre lingue, ma anche l'italiano. Mentre per quanto riguarda l'assistente Google, bisogna avere intanto il telefono connesso a internet e collegato alle Jabra. Comunque una volta abbinato e tutto, basta premere una volta il tasto, potrà parlare direttamente con l'assistente che risponderà tramite le cuffie. Mentre per Alexa c'è l'integrazione migliore, perché c'è proprio l'integrazione con Amazon Alexa. Se avete un altro echo potete per esempio dire ad Alexa di riprodurre una canzone o una playlist sulle cuffie rispetto che sul vostro echo che avete a casa. Però per il resto bisogna sempre avere il telefono collegato e quindi comunque potete parlare tranquillamente, sono compatibili tutte le solite funzioni. Molto buona l'autonomia, sono arrivato a fare anche tra le 6 e le 8 ore di utilizzo, quindi diciamo che nessun tipo di problema. Il prezzo di listino è di 99€ essendo appena uscita, comunque il prezzo è ancora questo. Comunque in generale è disponibile anche nelle colorazioni blu, mentre nera comunque è un prezzo onesto. Comunque mi sono piaciute perché comunque sono comode, suonano bene, hanno una buona autonomia, carina anche l'integrazione con Alexa, anche se non mi sembra una caratteristica essenziale. Comunque grazie Jabra per il sample, in descrizione recensione scritta e link all'acquisto, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like se avete apprezzato e noi ci vediamo alla prossima sempre qua sul canale, ciao!